Signore e signori, ho il premileggio e l'onore di annunciarvi Mr. Lazio Concio, che è la passata Lord. La presentazione sarà in inglese, ma in erota sarà in ucraina in italiano. Buongiorno, DxM. Buongiorno, DxM. Buongiorno, DxM. Buongiorno, DxM. Buongiorno. Buongiorno, DxM. Buongiorno. Quindi oggi è un giorno speciale per me perché non ricordo cosa che è successo dieci anni fa. La prima volta che sono venuto in Italia per fare insieme era la città del 2013. Una comunicazione di servizio, gentilmente, se silenziate i cellulari e se cercate di fare silenzio perché altrimenti chi parla non si concentra. Grazie. Paolo e Carlo hanno organizzato il meeting in Bimercate. Il primo meeting che hanno organizzato Carlo e Paolo era a Bimercate. E grazie a Carlo e Paolo e al loro team in meno di sei mesi siamo riusciti ad aprire il mercato. Quindi non è stato il mio successo, è stato il vostro successo. Quindi sono andato a Roma e abbiamo trovato all'inizio un piccolo ufficio. Abbiamo fatto tutto da soli. Qui c'erano i primi acquisti che arrivavano in XM e c'era anche Mr. Jigit che ci aiutava. anche se eravamo pochi e abbiamo fatto tutto da soli e abbiamo infilato tutto in macchina non so come abbiamo fatto ma ce l'abbiamo fatta. Ho tantissimi ricordi bellissimi e ci siamo andati davvero bene a Roma. Quando abbiamo aperto il mercato il dottor Lee mi ha detto se vuoi puoi stare qui possiamo fare una joint venture e tu puoi gestire il mercato italiano. Però ti ho detto ti ho già detto che voglio entrare in XM perché voglio essere libero. Ho un po' cercato di essere un lavoro. Ok, quindi vediamo perché oggi è una giornata davvero speciale. Perché 10 anni fa quando tutto è iniziato eravamo tutti molto felici e eccitati e entusiasti. Però è arrivato il momento per rendervi ancora più felici e ancora più entusiasti. Perché ho portato per voi un nuovo programma. Questo programma è un'opzione, tutto è per voi. Questo programma è un'opzione, dipende tutto da voi. Ma con questo programma sono sicuro che potete cambiare la vostra vita. perché questo tipo di programma non è disponibile nella vendita diretta nel network marketing in genere. Potete costruire il vostro network più velocemente e potete guadagnare di più se siete attivi. Questa è la parola chiave. Gli XM sapete che è un'opportunità fantastica. Siamo tutti un'unica famiglia. Molte persone sono entrate in XM e si stanno diventando un sacco. Ma alcuni lavorano come se la XM per loro fosse solo un hobby. Molti mi dicono, la XM è fantastica, per me la XM è un hobby. Ma se avete un hobby, di solito spendete i soldi, non guadagnate i soldi. Quindi questa è un'opportunità di lavoro, di business. È un'opportunità di business davvero seria. Ma dovete essere attivi. Quindi vediamo come funziona questo programma. Non so se sapete adesso sto vivendo in Malaysia. Oggi pomeriggio andrò a Dubai e poi andrò subito dopo in Malaysia. Perché sto lavorando per voi sul nuovo progetto. Perché dopo questa presentazione vi farò vedere qualcos'altro. Ma vivendo in Malaysia ho più opportunità di parlare con il dottor Lin. E a marzo ho presentato al dottor Lin questo piano, questo programma. E il dottor mi ha detto, perché no? Possiamo provare. Così abbiamo iniziato partendo dalla Polonia. E l'Uzbekistan. Però adesso ci vengo a farvi vedere i risultati che ha fatto la Polonia. Dopo tre mesi il numero delle registrazioni è cresciuto del 325%. E le vendite sono quasi raddoppiate, siamo al 177%. Quindi in Polonia abbiamo iniziato il primo di giugno. E ci siamo resi conto alla fine di agosto che questo programma funziona davvero. E adesso lo stiamo lanciando in tutti i paesi d'Europa. E probabilmente successivamente verrà lanciato in tutto il mondo. Il primo di novembre abbiamo iniziato in Grecia, Cipro e Spagna. E il primo di dicembre lo abbiamo lanciato in molti altri paesi europei. E il primo di gennaio lo lanceremo in Italia. Quindi grazie, grazie. Siete davvero fortunati perché abbiamo già un periodo di esperienza e esperimento che abbiamo fatto. Quindi adesso volevo condividere con voi. Quindi la cosa importante adesso è utilizzare questo mese prima della partenza, di sfruttarlo nel migliore dei modi per partire poi alla grande. Quindi cos'è l'ESP? La prima cosa, la cosa più importante è l'opportunità di un guadagno immediato. Perché c'è un ricevere dei soldi settimanalmente. E il secondo punto è l'acquisto. Cioè avete il 100% dei soldi che vi bisogno all'indietro in materia di questi che fate. Quindi è come se fosse un extra bonus per voi. Ma la cosa più importante è che questo programma vi spingerà ad essere attivi. Perché siamo degli esseri umani e a volte siamo pigri. Quindi a volte abbiamo bisogno di una piccola spinta. Allora vediamo adesso nel dettaglio come funziona il programma ESP. Ognuno può creare il proprio pacchetto ESP scegliendo i prodotti che vuole. Quindi non c'è un pacchetto. Quindi la compagnia non vuole dire che dovete comprare questi prodotti, questi prodotti, questi prodotti insieme. Tutto è up to you. Dipende tutto da voi. Siete liberi di scegliere al 100% i prodotti che volete. Radixene non crea nessun kit. Quindi voi potete inserire in questo kit i prodotti che vi piacciono o quelli che credete possano funzionare meglio. Quindi se preferite concentrarvi su Black Coffee e comprare 100.000 scatole di Black Coffee potete farlo. Non ci sono limiti. Solo un limite. E il valore minimo dell'ASP che è di 100 PV. Ma tutto il resto dipende da voi. Se acquistate 5.000 euro. Se acquistate 1.000 euro. Se acquistate 1.000 euro. O se acquistate soltanto 200 euro con l'ASP. riceverete dietro il 100% nei tre anni successivi. Quindi potete prendere il 10% ogni volta per arrivare ancora al 100%. Quindi per gli acquisti futuri potete ricordarvi che il valore del primo acquisto dell'ASP vi verrà scontato di volta in volta fino ad arrivare al 100% del totale del primo acquisto. Quindi vorrei riassumere ma è davvero semplice. Potete acquistare. Tutto è appunto da voi. Non ci sono limiti. E avete 3 anni di tempo per riavere indietro il 100% del valore iniziale dell'ASP. Ok. So let's see how working the bonus payment. Vediamo come funziona il valimento del bonus dell'ASP. You know? The direct bonus is 60% from the ESP. Il bonus iniziale è il 60% e si dice vedo solo una settimana. Primo livello. Perché tutti possono acquistare l'ASP. So I see Paolo and Carlo really excited now. Vedo che Carlo e Paola brillano gli occhi. So first of January. A partire quindi dal primo gennaio. Maybe they can buy the 2000€ ASP package. Probabile che acquisteranno un ASP da 2000€. E visto che loro sono iscritti direttamente sotto di me. Non faccio niente. Ma visto che acquistano. Io ricevo il 60% perché loro rappresentano il mio primo livello. Quindi se avete una rete. E le persone che sono iscritte direttamente sotto di voi acquistano l'ASP. Ricevete il 60%. E andando avanti poi le persone che sono iscritte sotto il secondo livello riceverete il 10%. Terzo e quarto livello il 5%. E vi ricordo che la cosa importante è che funziona con la compressione dinamica. Che cosa significa? Se c'è qualcuno sotto di voi che è inattivo o non è attivo. Se c'è qualcuno ancora sotto che non è attivo. Ma al terzo livello c'è qualcuno che acquista l'ASP. Comunque poi ricevete il 60% perché diventa il primo livello. E parlando del secondo, del terzo e del quarto livello. Li consideriamo come livelli attivi. Quindi come potete vedere è davvero semplice. Questo programma ti aiuterà ad essere attivi perché i benefici sono molto maggiori rispetto al marketing esistente. Vediamo adesso quali sono le regole dell'ASP. Ognuno può iscriversi a questo programma autonomamente. Quindi non è necessario dire voglio inserire e voglio attivare questo programma. Quindi in Italia tutti quelli che hanno il codice registrato sotto l'Italia possono entrare a far parte di questo programma autonomamente. E tutti i membri con il codice italiano possono acquistare il codice ASP. Ad ogni codice corrisponde un solo ASP. Ma non c'è una scadenza. Quindi potete decidere di fare l'acquisto a gennaio. Potete decidere di farlo a giugno. Potete farlo fra due anni. Non ci sono scadenze, dipende tutto da voi. C'è solo una regola importante da rispettare che ogni codice può acquistare solo un ASP. E nel momento dell'acquisto partono i tre anni. Se il vostro codice non è registrato in Italia questo programma non si può attivare. Ma potete venderlo nel senso che se voi avete delle persone iscritte con il codice italiano potete farlo. E in questo caso riceverete comunque dei soldi. E in questo caso riceverete comunque dei soldi. Non è come dei sistemi piramitali in cui le cose funzionano in modo diverso. Quindi la cosa importante è avere l'ASP. Quindi acquistare e vendere sono due cose diverse. Non è necessario che voi acquistate l'ASP per ricevere i soldi dall'ASP. Se non volete acquistarlo non è un problema, dipende tutto da voi. Ma potete promuoverlo agli altri. O potete fare al contrario se volete soltanto acquistarlo ma non volete promuoverlo potete uguale. E ovviamente perché questo è un programma separato, la compagnia non può pagare doppia. Laima, per favore, può fare un annuncio grazie. 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 Laima, laima, per favore. Si tratta di ritrovo, se non mi viene informale. Grazie. 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 Sovran. 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 So, you know, because this ESP program is separately the existing marketing plan, of course the company cannot pay full times with same purchase. So if somebody buys something with ESP, you know the company pays only in the ESP program. Allora, ovviamente la società non può pagare il bonus per gli acquisti tradizionali e gli acquisti dell'ASP. Quindi, se qualche prodotto viene acquistato attraverso l'ASP, viene pagato una sola volta attraverso l'ASP e non viene pagato nuovamente con il piano marketing tradizionale. Ma tutto il resto è collegato al piano marketing tradizionale. For example, if somebody buys the ESP or somebody sell the ESP, you know, can get the ITSI point in the traditional marketing plan. Quindi, la cosa molto importante è che i punti dell'ASP valgono per la qualificazione del TSI. Quindi, sicuramente, avremo tante persone che si qualificheranno per il TSI. questo programma di sponsorizzazione è importante per le attivazioni. Quindi, la cosa importante è che voi siate attivi. ma se siete già iscritti i primi tre mesi sono gratis per voi. Quindi, se voi siete già iscritti i primi tre mesi non dovete fare nulla. e se siete un nuovo membro, è successo nei primi cinque mesi. Invece, se siete dei membri appena iscritti, avete cinque mesi di tempo. Adesso vi faccio vedere qualcosa di più del dettaglio per come funziona il pagamento. Quindi, se siete dei membri già registrati e esistenti, i primi tre mesi dovete sponsore il minimo 6 EU directs. Dovete scrivere soltanto 6 nuove persone. Se non fate questa cosa, riceverete il bonus per i primi tre mesi. Ma, a partire dal quarto mese dovete fare queste 6 nuove registrazioni. Quindi, facciamo un esempio che in Italia iniziamo il primo di gennaio. febbraio, febbraio, marzo, insieme dovete sponsore 6 EU directs. Quindi, nei primi tre mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, dovete scrivere 6 nuove persone. Se volete ricevere il bonus ad aprile riferito ai primi tre mesi. Gennaio, febbraio, marzo lo riceverete. Non è necessario fare niente di particolare. Dovete solo acquistare i soliti 100 punti per la qualificazione del bonus. Quindi, non è necessario acquistare l'ASP, ma basta fare 100 punti che fate già ogni mese. Quindi, se fate invece l'iscrizione dell'ASP, in quel caso non è necessario fare 100 punti aggiuntivi, perché quei punti che fate per l'acquisto dell'ASP vengono già conteggiati per il vostro essere attivo. Quindi, se fate 100 punti, fate per i 100 punti. Se fate più di 100 punti, comunque vengono considerati per l'ASP. Quindi, per i primi tre mesi sei nuove registrazioni. E ognuna di queste nuove registrazioni deve fare 100 punti. Cosa significa? Visto che parliamo di One World One Market, non è necessario che sponsorizzate le persone qui in Italia. Potete iscriverle in tutto il mondo. Ma la regola importante è che voi facciate sei nuove iscrizioni. E queste sei nuove iscrizioni nel momento dell'iscrizione devono fare un acquisto minimo di 100 punti. Quindi, il nuovo iscritto non deve necessariamente fare un acquisto con l'ASP. Può iscriversi semplicemente e fare un semplice acquisto da 100 punti. Quindi, si può registrare gratuitamente. La settimana successiva può acquistare una scatola di caffè. Poi, la settimana ancora successiva può acquistare 5 scatole di caffè. Ma l'importante è che il nuovo iscritto nell'arco del mese raggiunga i 100 punti. Quindi, se voi lo fate in qualsiasi parte del mondo, questa nuova registrazione viene considerata valida per il vostro ASP. E entro la fine di marzo, perché abbiamo detto gennaio, febbraio, marzo, e entro la fine di marzo dovete avere 6 nuove registrazioni. E ciò significa che ad aprile vi siete qualificati per l'ASP e quindi, la prima settimana di aprile, riceverete il bonus del 60% riferito all'ASP. Se non fate questa cosa, uscite automaticamente dal programma. Una volta usciti dal programma, non si può tornare indietro. Quindi, se uscite dal programma, perdete questa opportunità in maniera definitiva. Perché questo è proprio il valore, il vantaggio di questo programma. Quindi, se volete raggiungere questo benefit ulteriore dovete essere attivi. E quindi poi, a partire dal quarto mese, ogni mese dovete avere 3 nuove registrazioni. So, immagino cosa state pensando. Secondo me state pensando che è un po' troppo? Di sicuro vi posso sembrare troppo se non siete attivi. Certo vi posso sembrare troppo se non avete gli strumenti giusti. Ma in realtà 3 è niente. 3 è niente se siete attivi. E se avete gli strumenti giusti. E secondo me lo strumento giusto è proprio l'ASP. Quindi se parlate con i nuovi iscritti, con le persone nuove interessate. Potete dirgli. Compra semplicemente nuove scatole di caffè. con l'ASP. E quindi diventa tutto gratis per voi. Poi sapete che adesso chi acquista le loro scatole di caffè sono più di 100 TV. e per la prossima pagina la compagnia pagherà. Perché poi al mese successivo vengono restituiti. Quindi se la ponete in questo modo è sicuramente molto facile trovare delle persone da poter iscrivere. Certo se siete dei nuovi iscritti dovete imparare. Quindi avete più tempo. Avete più tempo per qualificarvi. Avete più tempo per qualificarvi. Quindi avete 5 iscrizioni ma avete anche 5 mesi di tempo per le nuove iscrizioni. E a partire dal quinto mese, quindi dal sesto mese in poi, come vedete sia per i nuovi che per i nuovi, il sistema di qualificazione diventa uguale. Quindi a partire dal sesto mese nel caso dei nuovi membri, ogni mese dovete fare 3 nuove registrazioni. Ma fino a quando? Ma fino a quando? fino a quando raggiungete il momento di casa. Quindi quando raggiungete il momento di casa. Io credo. Se sei un amministratore, non c'è bisogno di portare 3 nuovi diretti. Ma hai detto qualcosa, Laszlo? Questo è un ruolo di design. No, 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 no. Ho dovuto mostrare la visione per i miei membri. Allora, Laszlo dice giustamente, visto che lui si è in base del programma, si è creato una regola che va bene. Che nel momento in cui raggiungete il livello di Crown Ambassador, questa regola non vale più. Siete liberi, ma giustamente bisogna arrivare al livello di Crown Ambassador. Quindi se sei un Crown Ambassador, solo ti piace questa brand. Se ti sponso uno o due, o qualcuno che compie dentro te, e ovviamente nel momento in cui diventate grano ambassador siete liberi quindi potete fare una iscrizione e nelle iscrizioni non avete più dei vincoli di numeri precisi di iscrizioni da poter fare sappiamo che ogni tanto bisogna prendere un respiro sappiamo che ad agosto in Italia molti sono fermi e so che nel caso degli arabi spesso c'è il periodo del Ramadan che corrisponde un po' alla nostra pausa nell'estate quindi ho pensato anche a questo in questo caso ho pensato a questo dettaglio quindi si può attivare la sospensione dell'ASP quindi in ogni anno solare avete due mesi di tempo che potete scegliere come sospensione dell'ASP quindi va automaticamente non è un problema i primi tre mesi ovviamente non si può fare perché sono i primi tre mesi proprio per la partenza ma se dovessi essere necessario già dal primo di aprile e quindi il quarto mese potete chiederlo quindi ogni anno avete due mesi ma non possono essere due mesi consecutivi quindi per esempio in Italia potete chiedere come sospensione agosto e dicembre ma la cosa importante è che lo dovete dire prima appena parte il mese e non alla fine del mese quindi dovete decidere subito appena inizio del mese e non quando il mese è già iniziato da un po' alla fine del mese perché dovete annunciare che quel mese voi non intendete attivare l'ASP ma potete fare il mese di sospensione quindi potete trovare il nuovo menu in E-point quindi potete trovare il nuovo menu in E-point e potete trovare il nuovo menu in E-point quindi se iniziamo dal primo gennaio a marzo nel menu di E-point ci sarà scritto e potete trovare l'ASP ma potete trovare il mese di sospensione ma nel momento in cui scegliete poi non è più possibile fare il cambio ma se decidete di fare la sospensione va richiesta entro i 5 del mese cosa succede nel mese di sospensione? ovviamente se si sponsorizzate una persona voi ricevete il 60% quindi non perdete questa opportunità quindi nel vostro caso che voi siete già iscritti non dovete semplicemente fare le nuove iscrizioni e entrate automaticamente nel programma per il mese successivo ovvio che se chiedete la sospensione ma portate 10-9 persone quindi all'inizio del mese potete dire «Sorry, you see, I was active, it was not my sospension, no, it was your sospension per il momento in cui voi lo decidete entro il 5 del mese quel che è fatto è fatto anche se quel mese avete tante registrazioni, anche 10 registrazioni se avete scelto di fare il mese di sospensione resta definitivo» quindi questa è l'ASP è molto semplice dovete solo essere attivi e potete guadagnare tanto ma quello che vorrei è darvi la partenza giusta e quindi ho ottenuto qualcosa in più dal Dottor Lini e quindi come sapete è una persona generosa quindi mi ha dato questa ulteriore opportunità quindi solo per i primi tre mesi i punti sono doti i punti sono doti quindi è accaduto solo per i primi tre mesi quindi l'Italia che parte a gennaio tra gennaio, febbraio e marzo quindi ricordatevi l'Italia parte con il programma ASP il primo gennaio quindi questa opportunità si avrà solo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo quindi se fate l'acquisto di 500 PV dell'ASP ricevete 1.000 PV ricevete 1.000 PV ma non solo ricevete 1.000 PV perché questo è collegato all'esistenza marketing tutti hanno 1.000 PV fino a voi quindi tutte le persone sopra di voi avranno questo doppio punteggio e visto che i PV servono per la qualificazione you know what is the requirement is for the qualified star agent line per esempio per qualificare per qualificarsi come star agent sapete quali sono i criteri you know the 300 PV solo i 300 PV but if somebody buy 150 PV with ESP ma se qualcuno acquista 1.500 punti con l'ASP he gets 300 PV già raggiunge 300 PV già si qualifica so che molti di voi hanno già 6 star agent ma non è ancora un diamante perché non sono mai qualificati adesso la qualificazione è più facile perché ci sono meno punti da fare e quindi anche voi se siete diamante e qualcuno di voi si qualifica come diamante anche voi avanzate di posizione quindi forse potete diventare caro ambassador più velocemente di me ma ricordatevi che questa opzione è disponibile solo per i primi tre mesi quindi è importantissimo che voi fate il vostro acquisto con l'ASP nei primi tre mesi quindi questo era quello che avevo da dirvi sul programma ASP in queste ultime settimane ho fatto presentazioni ovunque sul programma ASP ogni fine settimana ero in qualche parte in qualche punto a promuovere l'ASP e mi hanno fatto tantissime domande ma la maggior parte delle domande era soltanto un chiarimento per capire se quello che avevo detto era vero o no perché mi sembra bastonissimo perché non mi sembra bastonno che questo che loro avevano capito poteva essere davvero la realtà quindi è davvero semplice non ci sono complicazioni, non ci sono cose stare è proprio così come avete capito quindi l'unica cosa da fare è partire subito questi sono i paesi nei quali negli ultimi mesi abbiamo aperto l'ASP a novembre a dicembre questi sono i paesi di dicembre e questo è il mese di gennaio ed ecco qui l'Italia adesso quindi avete un'informazione ma questa informazione che voi avete non ha valore se non la condividete quindi quello che vorrei fare è aiutarvi a capire cosa dovete fare avendo questa informazione vi ho detto già diverse volte che questa è un'opportunità ma è davvero seria quindi dovete avere ben chiaro che si tratta di business avete un lavoro importante la prima cosa che dovete fare è vedere questo video semmai io direi subito dopo il garage internet questa sera ma al massimo videotempo fino a domani ok quindi se andate su questa sita ted.com adesso potete fare una foto take a picture so ok quindi quando inserite il nome team urban all'interno della parla ted.com vi appare questo video ok quindi questa presentazione è disponibile in tutte le lingue in italiano in arabo spagnolo quindi entro domani avete un compito importante vedere questo video come potete vedere più di 69 milioni di persone hanno già visto questo video e ho iniziato a condividere questo video e dire di vederlo il mese scorso erano soltanto 68 milioni e adesso se ne sono aggiunti un milione in più questo video è fantastico questo video è fantastico il video secondo me è migliore che è disponibile dura 15 minuti o meno è divertente ma al tempo stesso è molto serio quindi una volta che lo vedete vi renderete conto del perché vi ho suggerito di iniziare tutto il processo guardando questo video quindi la prima cosa da fare se volete avere successo con questo programma è partire da questo video seconda cosa da fare è usare il vostro calendario so che tutti voi avete un calendario perché tutti avete lo smartphone quindi dentro lo smartphone avete il calendario questo è il segreto siccome tante cose ci influenzano e abbiamo appunto influenze che ci arrivano di qua e di là se perdiamo il focus sull'obiettivo non riusciamo più ad aggiungere nulla quindi la prima cosa da fare domani quando arrivate a casa è aprire il vostro calendario e inserite il calendario del DSP Business quindi sul calendario dovete stabilire un orario ogni giorno in cui volete lavorare con la DXN quindi per esempio dalle 9 alle 11 inserite già l'orario ASP a quell'ora vi dedicate alla DXN e lo dovete fare per tutto il mese di dicembre perché è importante? perché è importante? molte persone vengono da me e mi dicono l'ASP per favore aiutami sto facendo questa attività con tutto il mio impegno ma c'è qualcosa che non va, non funziona quindi mi dicono per favore aiutami ho bisogno di qualche consiglio la mia risposta è molto semplice e speciale mi dispiace ma non ti posso aiutare perché quello che mi stai chiedendo è troppo generico voglio aiutarti e quindi ho una richiesta da farti torna da me fra una settimana e poi raccontami quello che hai fatto nel corso della settimana dopo che ci vediamo quando ci vediamo alla fine di questa settimana sono certo di poterti aiutare sapete cosa accade? che la maggior parte delle persone non tornano da me perché una week later perché si rendono conto e perché non sta funzionando l'attività e il loro lavoro perché non stanno facendo davvero azione quindi se non siete soddisfatti del vostro bonus controllate il vostro calendario e quindi guardate quello che è successo nel calendario nell'ultima settimana e vi risponderete da soli quindi inserite nel calendario i vostri orari che scegliete per fare il lavoro e c'è solo una regola da rispettare niente deve impedire di modificare l'orario che avete stabilito nel calendario perché da questo dipende il vostro futuro quindi se qualcuno o qualche amico vi chiama per una festa o per qualsiasi cosa dite no a quest'ora ho un impegno il mio orario di lavoro quindi quando siete pronti partite proprio da qui e fatevi una domanda è abbastanza? e se pensate che non è abbastanza avete due opzioni la prima opzione è che dovete pospondere altri programmi e cambiare questo è il mio XM business time dovete spostare tutti gli impegni che in passato ho arrivato in quell'orario e lasciare quell'orario solo per la XM quindi cercate di spostare tutti gli appuntamenti, tutte le cose che avevate preso nell'orario che avete stabilito e poi ricontrollate il vostro calendario se di nuovo non siete soddisfatti avete solo un'opzione più semplice vuol dire che dovete dormire di meno è molto semplice molto semplice se siete abituati a dormire due ore al giorno avete poi modo di recuperare nell'arco del mese potete dormire dopo una volta diventati per l'ambasador perché il vostro successo dipende dal vostro impegno nel lavoro qual è il prossimo passaggio, il prossimo passo che dovete fare? dovete andare in New World e controllare la vostra struttura perché ora avete una grande responsabilità perché le persone che non sono attive e che non hanno l'informazione giusta escono poi dal programma non è ammesso che qualcuno dica dopo i primi tre mesi ah mi dispiace, non lo sapevo, non mi hanno detto, non sono stato informato quindi dovete controllare attentamente la vostra struttura so che in Europa ci sono un po' di limitazioni quindi non è facilissimo ma abbiamo trovato una soluzione per voi quindi se vedete che c'è qualcuno sotto di voi che sta acquistando qualcosa e non riuscite a contattarlo perché non avete i contatti di questa persona e non ci sono degli inattivi tra voi e questa persona potete contattare una sedia di XN potete mandargli il nome e il codice di questa persona inattiva e l'ufficio può contattare questa persona e l'ufficio può contattare questa persona e l'ufficio può contattare questa persona e la XN contatterà questa persona dicendo posso dare il vostro numero al vostro sponsor, al vostro app line e se la persona dà l'ok, vi verrà fornito il numero di contatto di telefono della persona voi potete contattarlo e dare tutte le informazioni sull'ASP quindi avete davvero un'opportunità incredibile quindi entro la fine di dicembre vedete tutto quello che è successo nell'arco del mese potete controllare tutta la vostra rete e se mai vedete qualcuno che ha acquistato qualcosa se mai due o tre scatole di caffè al mese ma questo è il momento giusto potete condividere questa nuova opportunità per esempio la mia esperienza che ho avuto in Ungheria molte persone che erano inattive sono ritornate ad essere attive grazie all'ASP perché si sono resi conto che questa opportunità è davvero fantastica quindi adesso è il momento di ricontattare anche le persone che quando sono state contattate la prima volta mi hanno detto di no molte volte mi è capitato che qualcuno mi dice se voglio guadagnare subito ma con questo piano marketing non posso guadagnare subito ecco abbiamo la risposta ecco abbiamo la risposta ecco abbiamo la risposta l'ASP lo può dipende tutto da voi se volete vendere vendere tanto la settimana successiva avete già i soldi quindi nessuno può avere più questa scusa di dire non posso guadagnare abbastanza e ovviamente potete contattare tutti quelli che bevono il caffè perché io sono entrato in DXN 15 anni fa grazie al caffè il caffè è il modo più facile per presentare il nostro prodotto certo so che il morinze è il prodotto migliore ma se propongo come primo prodotto il morinze sapete che succede? mi fanno tante altre domande che cos'è? come funziona? cosa devo fare? troppe domande ma se mostro una scatola di caffè dico semplicemente provalo tutti conoscono il caffè quindi è semplice adesso vorrei condividere con voi il piano dei calcoli molto semplici cosa dovete fare a partire dal primo gennaio prima di tutto controllate il valore del vostro acquisto personale mensile vi faccio solo un semplice esempio la media semmai del vostro acquisto personale mensile è di circa 150 euro perché semmai con questo valore acquistate il caffè, il ganoderma, la spirulina, il cordice quindi è probabile che in futuro resterete sempre fissi su questo valore di circa 150 euro quindi se restate più o meno su questo valore dopo 36 mesi e dopo 3 anni il valore di acquisto sarà di circa 5.400 euro quindi se fate questo acquisto nel totale dei 3 anni l'azienda vi restituisce 10% quindi 540 euro al mese quindi 10% che sono questi 540 euro saranno ogni mese per ogni mese quindi il totale sarà di 540 euro quindi il totale sarà di 540 euro che cosa significa? quindi se acquistate all'inizio con la SP 5.400 euro di prodotti diventano gratis per voi diventa assolutamente gratis è proprio semplice matematicamente parlando quindi cosa vi suggerisco? quindi cosa vi suggerisco? controllate qual è il valore del vostro acquisto personale controllate qual è il valore del vostro acquisto personale controllate qual è il valore massimo dei prodotti che ricevete gratis scrivete questo numero accendendo aggiungite il valore medio dei vostri prodotti mensili e acquistate almeno e acquistate almeno quanto questo valore per il vostro ISP e acquistate almeno questo valore per il vostro ISP quindi è quello che già avrete per gli avvisi personali ma se con questo valore avvisate solo il caffè con questo importo riuscite ad avere 40 scatole di caffè quindi se fate questo il primo gennaio la prima settimana di gennaio avete tre strumenti innanzitutto le 40 scatole di caffè poi l'opportunità di partecipare al programma SP e poi il terzo la vostra azione il vostro entusiasmo cosa potete fare? prendete un caffè e lo share e condividetelo una scatola di caffè per ogni persona anche se vi fa stato vi ho parlato di questa strategia tante volte la voglio ripetere ancora una volta perché se mai all'inizio non mi credevate ma potete credere alla vostra esperienza cosa succede nella mente umana? prendo una confezione di caffè vado da una persona e dico questo è il mio caffè è fantastico ho dritto caffè è davvero buono per me e dico questo caffè è fantastico fa davvero bene e ha fatto ha avuto degli effetti positivi e costa pochissimo lo puoi comprare sapete cosa accade? la persona inizia a pensare qualcuno mi vuole vendere qualcosa non mi serve niente non devo provare niente non mi interessa ma se uso una strategia diversa prendo il caffè parlo di come è stato delle caratteristiche di questo caffè di quanto è stato efficace per me ti posso dare un suggerimento? provalo è un'offerta speciale per te se lo prendi se lo acquisti ma non ti piace mi puoi restituire la scatola vuota e questo caffè diventa gratis per te ma se sei soddisfatto me lo puoi pagare dopo puoi decidere tu e costa solo 5 euro è inutile credermi provatelo e vi dico che cosa accadrà la maggior parte delle persone inizierà a pensare queste persone poi arriveranno diranno che questo caffè è fantastico ma semmai pensano non ho i soldi non ho questi 12 euro non posso pagare adesso questi 12 euro certo lo posso pagare lo voglio pagare subito se non mi credi provalo quindi se lo fate le persone proveranno il prodotto vi daranno i soldi e quindi potete da qui iniziare a pizzare il caffè all'infinito nella vendita diretta ci sono tantissime statistiche disponibili una delle statistiche dice che se contatti 10 persone una sola si registrerà quindi questo se lo rapportiamo alle 40 scatole di caffè il 10% sono 4 se pensiamo nella peggiore delle ipotesi diciamo 3 nuove registrazioni ma qual è il numero minimo di registrazioni che dobbiamo fare con l'ISP? 3 quindi diventa davvero semplice e questo strumento, questo valore diventerà gratis per voi senza cambiare nulla quindi questa è la strategia dell'ISP questo è il mio canale YouTube e oggi sarà registrata la presentazione sarà disponibile tra due giorni sul canale di YouTube di Laszlo adesso è disponibile in tanto in lingue in spagnolo, in inglese, in ungherese diciamo tutti i paesi che hanno iniziato l'ISP già hanno questi video disponibili ci sono più di 400 video disponibili in italiano, in spagnolo, in arabo nelle lingue che a voi possono essere utili potete seguire il mio progetto Morinzi qui in questi link questa fa parte della mia prevenzione personale mi sto diventando tantissimo nella vita di Excel e quindi voglio continuare a divertirmi il più a lungo possibile sapete cosa è il contenuto del Morinzi? è il noni il noni è il frutto anti-aging più famoso in tutto il mondo ecco perché io lo uso in partita industriale in Megadossi quindi buona fortuna a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti